ok vediamo se c'è un aereo qui a destra 3 ma che cazzo sarei 4 in più eh sta attenzione non è che ti sei bene ma che cazzo ma che cazzo non ci credo non ci credo non ci sono anche paura non l'avevate mai notato ragazzi è di mezzogiorno e 5 precisa ora ovviamente quella lì sarebbe dei minuti però vabbè sta andando come i secondi figata non l'avevo mai notato questo qua bello se trovate un orologia in giro sapete che è regolare ah no non batterava no mi servia questo ok me l'ho messo male no Frank riprende o che cade male così il tempo mio è più a destra si poi dipende da quello che devono fare magari hanno un motivo per mettersi in passiva faccina con un gran sudore ma perché perché per accelerare a vola il mio somergibile sì tipo magari stanno dei giorni dove c'è uno che ha più voglia allora dice no vabbè uso i mezzi normali ah sì sì ma che fa sto somergibile qua già ma è normale non so se lo vedi anche te va sott'acqua e riesce di continuo che sto arrivando no stavo là ah tu lo sei fatto spawnare là giusto vieni a vedere dimmi se anche a te ti fa vedere guarda vediamo dove stai ahia ci sono delle scorte di qualcuno qua vengono sto passandio sopra e pigliare pigliare no la devo distruggere questa per guadagnare denaro e rp se la mettermi da no me lo distrugge me lo metterò qui per forza ma cosa fa guardalo guardalo mi sa che ce ne sono le moto di qualcuno della coca sembrono quelli guardalo senza un braccio cosa sta facendo no è bellissimo questo è il bello decidere guarda sto a trombare qualcuno guardalo cosa fa e basta ma che cazzo ma noi siamo dei pazzi psicopatiti oh ma che fortuna che eravamo la persona che vuoi forse perché stava l'animazione ma è possibile che non è scusa meravigliosa tagliamoli qua occhio ecco che ok un po' un po' da vicino ti tira via subito no sono scemo oddio ecco come sei volato sperava un po' io non sono un di quelli che dicono facciamo girare facciamo girare no chi è entrato prima se c'eri te mi facevi perdere 60 volte la missione ti tenevo qui lo stesso dicevo lo so ragazzi che stava giocando ma che cazzo la mia macchina scusa Frank ti volevo suonare mi ero dimenticato che stava che raggio ti volevo suonare che stava Poi. Ha ha ha. Ora ora. Ora qui. No desi. Ha ha. Ha ha. oh 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 che colpo è Frank? Frank? mi sei Nabu quello dietro di me bambino sono arrivato dai che bambino? dai che ce la fai? dai che ce la fai un bambino soltanto questo? aiutatemi vieni verso di me vieni verso di me no c'è uno che mi sta schiacciando di continuo non è riuscito a uccidermi sto bambino di merda COGLIONE TO come godo quando sei così nabbo le persone nabbo 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 raga abbiamo poco tempo per fare 7 km 8 km eh sul passone del franconi eh sul passone del franconi ah già ah già dove sei? ah no cazzo io guardavo dietro ladro era guarda dietro c'è una bella spira c'è una bella ripresa quella oddio ok buono si deve smutarmi aiutatemi nooo mi dovete aiutare raga non ci credo non ci credo eh noi abbiamo superato nooo non ci credo oddio dai ma quante possibilità c'era che andava a finire lì dentro scusate però dico si è caduto in acqua si ma non sono morto quante possibilità c'erano dai scusate intanto la finiamo subito dai 100 dai ma impossi- c'è mi finito con l'angolino che non mi faceva ricirare oh fammi passare vantaggia ahah io guarda bella 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 per te che non muoio guarda spera per te che non muoio ma non è colpa mia che ti è passato davanti non è colpa sua guarda che situazione mi ha messo guarda non è colpa mia giuro mi sei passato davanti quindi ho trovato una macchia che culo che disgraziato colpa mia capita vedi tu ha detto il buscellino è a merda mi ha lasciato è venuto a far cosa il buscellino per ora non è colpa l'ho mi è riuscito a farci oh che doppietta mamma mia che kill che ho fatto Foggia prendi la te questo va può stalo un po bravo Bruscellino che fine ha fatto il mio elicottero aereo oggi a fammi capire ma uno l'hai consegnato te no lasciatemi l'aereo lasciatemi l'aereo lasciatemi l'aereo gli ho dato una palata Simon fammi saltare in aria quella macchina lì quella macchina ricolorata distruggila se no non mi fa chiamare il truster se no è la mia non la tua non la tua è la mia quella di là peccato è bella Simon sei un grande non ti immagini che cosa ma che è morto pure lui questo si è suicidato so hard makes me say oh my lord thank you for blessing me when I'm mind to mind and to hype me it feels good